Piper non riusciva a credere che fosse così difficile procurarsi un veleno mortale. Era tutta la mattina che lei e Frank perlustravano il porto di Pilos. Frank aveva permesso solo a lei di accompagnarlo, pensando che la lingua magliatrice potesse tornare utile se si fossero imbattuti per caso nei suoi parenti in muta forma. A conti fatti però, si era resa più utile la sua spada. Fino ad allora avevano ucciso un lestrigoni in panetteria, combattuto contro un facocero gigante nella pubblica piazza, e sconfitto uno stormo di uccelli di Stinfalo con qualche raffica di ortaggi della sua cornucopia. Piper era contenta di avere tanto da fare. Così evitava di pensare troppo alla conversazione avuta con sua madre la sera prima, quel cupo scorcio del futuro che Afrodite le aveva mostrato, facendole promettere di non rivelare niente a nessuno. Nel frattempo, la sfida maggiore che Piper doveva affrontare lì a Pilos era rappresentata dalle locandine del nuovo film di suo padre che tappezzavano la città. Erano scritte in greco, ma lei sapeva cosa dicevano. Tristan McLean e Jake Steele, firmato col sangue. Santi nomi che titolo orrendo! Quanto avrebbe voluto che suo padre non avesse mai accettato la serie di Jake Steele, invece era diventato il suo ruolo più popolare. Eccolo là, con la maglietta strappata e gli addominali scolpiti in bella mostra. Che schifo papà! Due kalashnikov in mano e un sorriso da mascalzone sul volto perfetto. Lei si trovava dall'altra parte del mondo, nel paesino più piccolo e più sperduto che si potesse immaginare, e suo padre era lì. Piper si sentiva allo stesso tempo triste, disorientata, malinconica, infastidita. La vita andava avanti, e Hollywood si adeguava. Ma mentre suo padre fingeva di salvare il mondo, lei e i suoi amici dovevano salvarlo sul serio. Di lì a otto giorni, a meno che non fosse riuscita a mettere in pratica il piano che Afrodite le aveva spiegato, beh, non ci sarebbero più stati film, né cinema, né persone. Verso l'una, Piper mise finalmente all'opera la sua lingua ammaliatrice. Parlò in greco antico con uno spettro in una lavanderia a gettoni, in una scala di assurdità da 1 a 10, quella conversazione si aggiudicava un 11, e ottenne le indicazioni per raggiungere la Roccaforte, in cui, a quanto pareva, si aggiravano i discendenti mutaforma di periclimeno. Dopo aver attraversato faticosamente l'isola sotto il sole del pomeriggio, trovarono la grotta appollaiata a metà altezza su una scogliera. Frank volle a tutti i costi che lei lo aspettasse giù, mentre saliva a dare un'occhiata. Piper non ne fu contenta, ma rimase diligentemente sulla spiaggia a scrutare con gli occhi socchiusi l'ingresso della grotta, sperando di non aver condotto Frank in una trappola mortale. Alle sue spalle, una breve distesa di sabbia bianca abbracciava le pendici delle colline. I turisti prendevano il sole distesi su teli da spiaggia, i bambini si schizzavano fra le onde. Il mare azzurro cintillava invitante. Quanto le sarebbe piaciuto fare surf in quelle acque. Aveva promesso di insegnarlo a Hazel e a Annabeth un giorno, se mai fossero venute a trovarla a Malibu. Sempre che Malibu fosse ancora esistita, dopo il primo agosto. Lanciò un'occhiata verso la sommità della scogliera, dove si abbarbicavano le rovine di un'antica fortezza. Non sapeva se anche quella costruzione facesse parte del nascondiglio di mutaforma. Lungo i parapetti non si vedeva anima viva. L'ingresso della grotta si arriva una ventina di metri più giù, direttamente nella parete rocciosa. Un cerchio nero nella pietra gialla e porosa, come il foro del temperamatite di un gigante. La grotta di Nestore, l'aveva chiamata il fantasma della lavanderia Gettoni. Si diceva che l'antico re di Pilos nascondesse lì il suo tesoro nei momenti più critici. Secondo il fantasma, una volta anche Hermes ci aveva nascosto il bestiame rubato ad Apollo. Vacche. Piper rabbrividì. Una volta da piccola, suo padre l'aveva fatta passare in macchina davanti a un impianto di macellazione a Cino. Il tanfo era così disgustoso, che era diventata vegetariana. Da allora bastava il pensiero di una vacca a darle il volta stomaco. Le pessime esperienze con Hera, a cui l'animale era sacro, e con i catoblepi di Venezia, per non parlare delle orribili immagini di vacche della morte nella casa di Ade. Non avevano fatto che peggiorare le cose. Aveva appena iniziato a pensare, Frank ci sta mettendo troppo, e il ragazzo comparve all'ingresso della grotta. Accanto a lui c'era un uomo alto con i capelli grigi, un completo di rino bianco e una pallida cravatta gialla. L'uomo premette un piccolo oggetto scintillante, una pietra forse, un pezzo di vetro, nelle mani di Frank. I due si scambiarono poche parole. Frank annui serio. Poi l'uomo si trasformò in un gabbiano, e volò via. Frank discese per il sentiero, e la raggiunse sulla spiaggia. Li ho trovati, disse. Ho visto. Stai bene? Frank seguì con lo sguardo il volo del gabbiano verso l'orizzonte. I suoi corti capelli a spazzola puntavano in avanti come una freccia, rendendo ancora più intenso il suo sguardo. I distintivi romani, corona muraria, centurione, pretore, scintillavano sul colletto della sua maglietta. Sull'avambraccio, il tatuaggio SPQR con le lanci incrociate di Marte risaltava al sole. Stava bene con quei vestiti nuovi. Il Piper lo aveva accompagnato da fare un giro di shopping d'emergenza a Pilos. Ora indossava un nuovo paio di jeans neri, morbidi scarponcini di pelle e una maglietta verde scuro con tre bottoni. Quest'ultima lo aveva messo un po' in imbarazzo. Era piuttosto aderente, e Frank era abituato a nascondersi dentro vestiti più abbondanti. Piper però lo aveva rassicurato. Non doveva più preoccuparsi per questo. Dopo lo scatto in altezza che aveva avuto a Venezia, era diventato un ragazzotto, ma stava benissimo. Non sei cambiato, Frank, gli aveva detto. Sei solo più tu. Era un bene che Frank Jung fosse rimasto così dolce e affabile. Altrimenti avrebbe fatto paura. Frank? Lo richiamò Piper con garbo. Sì, scusa. Frank riportò lo sguardo su di lei. I miei cugini, credo, vivono in questa terra da generazioni. Discendono tutti dall'argonauta periclimeno. Gli ho raccontato la mia storia, di come la famiglia Jung sia emigrata dalla Grecia a Roma, poi in Cina e infine in Canada. Gli ho detto del legionario fantasma incontrato nella casa di Ade che mi ha raccomandato di venire qui. Loro... beh, non mi sono sembrati sorpresi. Hanno detto che è già successo in passato. Lontani parenti che tornano a casa. Piper notò che parlava con una punta di rammarico. Ti eri aspettato qualcosa di diverso? Lui si strinse nelle spalle. Una festa di benvenuto, palloncini? Non lo so. La nonna ha detto che io avrei chiuso il cerchio, che avrei reso onore alla nostra famiglia e via dicendo. Ma questi miei cugini mi sono sembrati fretti e distanti, come se non mi volessero fra i piedi. Credo che non gli vada giù che io sia figlio di Marte. E detto francamente, credo che non gli vada giù nemmeno che io sia cinese. Piper lanciò un'occhiataccia verso il cielo. Il gabbiano era sparito da un pezzo. E probabilmente era meglio così. Lo avrebbe volentieri colpito con un bel prosciutto affumicato. Se i tuoi cugini la pensano davvero in questo modo, sono degli idioti. Non sanno quanto sei fantastico. Frank mosse un po' i piedi, imbarazzato. Sono diventati leggermente più amichevoli quando ho detto che ero solo di passaggio. Mi hanno dato un regalo di addio. Aprì la mano. Nel palmo luccicava una fialetta di metallo non più grande di un contagocce. Piper resistette all'impulso di fare un passo dietro. È il veleno? Frank annui. Lo chiamano la menta di Pilos. Pare che la pianta sia spuntata dal sangue di una ninfa morta su una montagna da queste parti, nell'antichità. Non ho chiesto i particolari. La fialetta era così piccola. Chissà se sarebbe bastata. Di solito Piper non si ritrovava a desiderare che ci fosse più veleno. E non sapeva nemmeno come quel veleno potesse aiutarli a fabbricare la cosiddetta cura del medico che aveva menzionato Nike. Ma se la cura riusciva davvero a ingannare la morte, avrebbe voluto fabbricarne altre sei confezioni. Una dose a testa per tutti i suoi amici. Frank si fece rotolare la fialetta nel palmo. Vorrei che Vitellius Reticulus fosse qui. Piper non era sicura di aver capito bene. Ridicolo chi? Frank fece un rapido sorriso. Gaius Vitellius Reticulus. Anche se in effetti a volte lo chiamavamo Ridiculus. Era uno dei lari della quinta coorte. Era un tipo un po' strambo, ma era figlio di Esculapio, il dio della medicina. Lui saprebbe dirci che cos'è questa cura del medico. forse. Dio della guarigione ci farebbe comodo, commentò Piper. Di sicuro più di una dea della vittoria isterica legata come un salame nelle stalle. Ehi, a te è andata bene. Io ho la cabina vicino alle stalle. La notte la sento strillare o il podio o la morte. Un dieci meno equivale a un'insufficienza. Leo deve inventarsi un bavaglio migliore del mio calzino vecchio. Piper alzò le spalle. Ancora non capiva perché fosse una buona idea portarsi dietro la dea prigioniera. Secondo lei, prima si sbarazzavano di niche. Meglio era. Allora, per tornare ai tuoi cugini, ti hanno dato consigli su cosa dobbiamo aspettarci adesso. Sanno qualcosa di questo dio incatenato che dovremmo trovare a Sparta. L'espressione di Frank si incubì. Sì, mi hanno detto un paio di cose preoccupanti, in merito. E torniamo a bordo, così ti racconto tutto. A Piper facevano terribilmente male i piedi. Stava meditando di convincere Frank a darle un passaggio a lato, quando udì dei passi nella sabbia alle loro spalle. Salve, simpatici turisti! Un pescatore con una barbaccia incolta, un cappello bianco da capitano e la bocca piena di denti d'oro, li guardava con un gran sorriso. Un giro in barca? Costa poco! Indicò con un gesto della mano una barca a motore vicino alla riva. Piper ricambiò il sorriso. Le piaceva molto entrare in contatto con la gente dei luoghi che visitavano. Sì, grazie, rispose con la sua migliore lingua maliatrice. Vorremmo che ci portasse in un posto speciale. Il capitano della barca li accompagnò fino a Largo 2, ancorata a Largo. Piper premette un rotolo di banconote nel palmo del marinaio. Non si faceva scrupoli a usare il suo potere con i mortali, ma aveva deciso di essere il più possibile giusta e prudente. I giorni delle BMW rubate erano finiti. Grazie, disse all'uomo. Se qualcuno glielo chiede, ci ha portati a fare il giro turistico dell'isola e ci ha lasciati sul molo di Pilos. Lei non ha mai visto nessuna nave da guerra. Nessuna nave da guerra, confermò il capitano. Grazie, simpatici turisti americani. Salirono a bordo e Frank le sorrise un po' goffo. Beh, è stato bello ammazzare facoceri giganti con lei, signorina. Piper rise. Anche per me, signor Jung. Lo abbracciò, mandandolo in confusione totale. Era impossibile non volergli bene. Non solo era sempre gentile e premuroso con Hazel, la sua ragazza. Ogni volta che Piper lo vedeva con il vecchio distintivo da pretore di Jason provava un moto di gratitudine. Frank non aveva esitato ad accettare quell'incarico e così facendo aveva tolto una grande responsabilità dalle spalle di Jason, lasciandolo libero, almeno così sperava lei, di intraprendere una nuova strada al campo mezzo sangue. Sempre che naturalmente fossero sopravvissuti ai successivi otto giorni. L'equipaggio si raccolse per una frettolosa riunione sul ponte, soprattutto perché Percy stava tenendo d'occhio un gigantesco serpente marino che nuotava a babordo. Certo che quel bestione è proprio rosso, brontolò. Chissà se è alla ciliegia. Perché non ti tuffi e vai a scoprirlo, replicò Annabeth. Preferisco non saperlo. Allora, cominciò Frank, secondo i miei cugini di Pilos. Il dio incatenato a Sparta è mio padre. Eh, voglio dire Arest, non Marte. A quanto pare gli spartani tenevano una sua statua incatenata in città per impedire che lo spirito della guerra li abbandonasse. Ah, ecco, commentò Leo. Gli spartani erano fuori di testa. Anche se con vittoria legata come un salame nelle stalle, forse non dovrei dirlo. Jason si appoggiò alla balista. Si fa rotta verso Sparta allora. Ma come ci aiuterà il battito del cuore di un dio in catene a trovare una cura per la morte? Dal suo volto teso, Piper capì che soffriva ancora. Ripensò a quello che Afrodite le aveva detto. Non è solo la sua ferita, mia cara. È l'orribile verità che ha compreso a Itaca. Se il povero ragazzo non tiene duro, quella verità finirà col consumarlo. Piper? Chiamò Hazel. Si riscosse. Scusatemi, sì? Ti stavo chiedendo delle visioni, la incalzò l'amica. Non mi avevi detto di avere visto delle cose nella lama del tuo pugnale? Giusto. Con aveva usato contro la dea della neve Chione, le visioni della lama erano diventate più fredde e dure, come immagini scolpite nel ghiaccio. Aveva visto delle aquile che volteggiavano sopra il campo mezzo sangue, una marea di terra che distruggeva New York. Aveva visto scene del passato, suo padre imprigionato e pieno di lividi in cima al monte Diablo, Gesone Persi che combattevano i giganti al Colosseo, il dio del fiume Achelou, che la sopplicava di restituirgli il corno dell'abbondanza che lei gli aveva staccato dalla testa. Io... cercò di schiarirsi le idee. Non vedo niente in questo momento, ma c'è una visione che continua a spuntare. Io e Annabeth stiamo esplorando delle rovine. Rovine? Leo si strofinò le mani. Così si parla. Quante rovine ci saranno mai in Grecia? Zitto, Leo, lo rimproverò Annabeth. Piper, pensi che sia Sparta? Forse, rispose lei. Comunque, all'improvviso siamo in un luogo buio, come una caverna. Guardiamo la statua di bronzo di un guerriero. Nella visione io tocco il volto della statua e veniamo avvolte dalle fiamme. Non ho visto altro. Fiamme. Frank si accigliò. Questa visione non mi piace. Nemmeno a me. Percy continuava a tenere d'occhio il serpente di mare rosso, che scivolava ancora sulle onde a un centinaio di metri di distanza. Se questa statua avvolge la gente nel fuoco, dovremmo mandare Leo. Anch'io ti voglio bene, amico mio. Lo sai che voglio dire? Tu sei immune al fuoco. Se no, dammi un po' di quei tuoi gavettoni esplosivi e ci vado io. Io e Ares ci siamo già scontrati in passato. Annabeth scrutò la costa di Pilos, sempre più piccola in lontananza. Se Piper ha visto noi due che cerchiamo quella statua, allora siamo noi a doverci andare. Ce la caveremo. C'è sempre un modo per sopravvivere. Non sempre, ribatte Hazel. Considerato che era l'unica del gruppo a essere morta e resuscitata, la sua osservazione affossò l'umore generale. Frank tirò fuori la fialetta di menta di Pilos. E questa roba? Dopo la casa di Ade, speravo che avessimo chiuso con la storia di bere veleno. Mettilo al sicuro nella stiva, disse Annabeth. Per ora non possiamo fare altro. Quando avremo capito questa faccenda del dio incatenato, faremo rotta per l'isola di Delo. La maledizione di Delo, ricordò Hazel. Sembra divertente. Speriamo che Apollo sia lì, si augurò Annabeth. Delo è la sua isola natia. È il dio della medicina. Dovrebbe saperci consigliare. Le parole di Afrodite risuonarono nella mente di Piper. Tu dovrai sanare la frattura fra Romani e Greci, figlia mia. Né il fuoco né la tempesta. Avranno successo senza di te. Sua madre l'aveva messa in guardia su quanto doveva accadere. Le aveva detto cosa avrebbe dovuto fare per fermare Gea. Sarebbe stata abbastanza coraggiosa. Piper non lo sapeva. Sempre più vicino, il serpente alla ciliegia sputava vapore. Sì, sta venendo decisamente a trovarci, concluse Persi. Forse dovremmo passare alla via aerea per un po'. E via aerea sia! Esclamò Leo. Pestus, a te l'onore! Il drago polena di bronzo cigolò. I motori della nave ronzarono. I remi si sollevarono, dispiegandosi in pale aeree con un suono simile a novanta ombrelli che si aprono in contemporanea. e Largo 2 ci levò nel cielo. Dovremmo essere a Sparta entro il mattino, annunciò Leo. E stasera ricordatevi di scendere in mensa gente, perché lo chef Leo ha intenzione di preparare i suoi famigerati tacos al tofu ultra piccanti!